Lo sai che non ti ho ancora fatto il regalo di nozze? Avrei un'idea in proposito. Tre femmine e tre maschi. Contenta? Non c'è male come inizio. Ma non c'è fretta, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Dicelo con i fiori! Sembriamo la pubblicità di un fioraio. Comunque tu me l'hai fatto un regalo di nozze. Il migliore che esista. Un avvenire. Tieni, un fiore. E non mangiarlo tutto in una volta. Dunque mi ama. Istintivamente. Impetuosamente. Intensamente. In... In... In? In... Indubitabilmente. Era Blofeld. Quel bastardo. Qualcosa che non va? No, niente. Assolutamente niente. Sta riposando. Proseguiamo subito. Non c'è nessuna fretta, vede? Abbiamo tutto il tempo. Non c'è nessuna fretta, vede?